Ciao! 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 Cosa stai mangiando? Ma cosa hai mangiato? Ho mangiato la minestra No! Se vuoi te lo riempio, io piaccio Non ti preoccupare Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ti faccio vedere io come si fa Vida! Vida! Sì! Sì! Ok No! Vida! 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 oh ecco fatto grazie grande grande visto Luca